Si sono conclusi nel pomeriggio i lavori di Terra, il forum ispirato all'ambiente del futuro, tantissimi gli argomenti affrontati e noi qui abbiamo il senatore Etel Sigismondi della Commissione Ambiente, quindi possiamo parlare a tutto tondo perché l'ambiente, soprattutto gli anni che verranno, saranno molto importanti, quindi energia, ma anche economia circolare, siccità, insomma, gli argomenti non mancano, senatore. Certamente sì, soprattutto in questa prima fase di legislatura il governo Meloni è stato caratterizzato dall'affrontare argomenti che riguardano l'ambiente. Abbiamo iniziato con occuparci del caro energia che poi è collegato a un altro argomento che è quello dell'indipendenza energetica dell'Italia. Ci riusciremo in quanti anni? Ci stiamo lavorando, ovviamente stavo proprio dicendo che tutto si fa riferimento anche all'aspetto delle energie rinnovabili, dove in questi ultimi anni si è fatto tanto, ma questo non basta perché al momento soltanto il 20% dell'energia elettrica viene prodotta dal rinnovabile. Ovviamente sono tutti argomenti che stanno interessando la Commissione Ambiente e il governo, così come abbiamo avuto a che fare anche con quelle che sono state le conseguenze dei cambi climatici. Voglio ricordare anche la tragedia delle alluvioni di qualche settimana fa, così come l'aspetto al quale lei faceva riferimento, che è quello della siccità. Recentemente è stato approvato dal Parlamento italiano un decreto che è stato convertito poi in legge, proprio che si occupa in maniera determinante dell'aspetto relativo alla criticità della siccità, con l'istituzione di una cabina di regia, con un commissario e con tutta una serie di semplificazioni anche per la manutenzione e aumentare la capacità dei nostri invasi per l'accumulo delle piogge. Sono tutti argomenti legati tra di loro, dai quali il governo ovviamente si sta occupando con determinazione, cercando di recuperare il divario rispetto al passato in cui si è perso oggettivamente del tempo.